Lo scorso 13 aprile, con partenza dalle acque del porto di Pesaro, si è svolta la manifestazione Fiume in Rosa, non aggiornata nazionale della salute della donna. Un numeroso pubblico ha assistito alla partenza dal molo portuale fino alla palla di pomodoro di 20 atlete della società Canottieri Pesaro, sia su imbarcazioni da Costa Rowing, sia su canoa. Tra le rematrici due ospiti d'eccezione, l'assessore alla rapidità e sport Mila della Dora non nuova questo tipo di esperienza nautica è l'oncologa Anna Maria Baldelli, entrambe protagoniste qualche minuto prima di un incontro con gli atlete e gli organizzatori della giornata, svolta in contemporanea con altre 35 città italiane. Incontro in cui hanno illustrato rispettivamente l'impegno che la società Canottieri Pesaro svolge in favore della salute attraverso la pratica sportiva e di come quest'ultima sia di fondamentale importanza, non solo per un buon stato di forma fisica anche a seguito di infortuni, ma in particolare dei benefici che si possono ottenere a livello psicofisico nella fase di recupero da patologie importanti come quelle appunto oncologiche. Il presidente della società Fabio Giustiniani ha confermato come, oltre all'attività agonistica in particolare dei giovani atleti, si stia dando importanza anche all'aspetto salute e benessere attraverso lo sport. Un argomento che verrà sviluppato anche presso le scuole pesaresi attraverso la collaborazione con personale tecnico e specializzato.